Rieccoci in diretta con una notizia di sanità che arriva da Padova dove una task force di specialisti formata da cardiochirurghi, urologi e chirurghi epatobiliari ha rimosso un tumore renale steso al cuore aspirandolo senza aprire il torace del paziente con una nuova tecnica. È la prima volta al mondo che viene effettuato un intervento del genere con il paziente in recupero che tornerà presto alla sua vita normale. Al paziente affetto da numerose patologie già sottoposto ad un intervento di triplice bypass a orto coronarico è stata scoperta durante una visita di controllo una patologia renale. Viste le sue precedenti patologie risultava proibitivo per lui l'approccio tradizionale quindi la scelta alternativa con l'intervento durato 12 ore. I cardiochirurghi hanno rimosso il tumore dall'interno del cuore senza aprire il torace a cuore battente senza l'ausilio del bypass con solo un'incisione a livello del liquide. Poi urologi hanno proceduto con l'apertura dell'isolamento della vena cava inferiore e della rene di destra mentre i chirurghi epatobiliari hanno isolato il fegato. Infine i cardiochirurghi, gli urologi e i chirurghi epatobiliari coadiuvati dai cardioanestesisti e dai perfusionisti hanno operato contemporaneamente al tavolo operatorio per l'asportazione della rene e la rimozione del trombotubore dalla vena cava per prevenire l'embolia polmonare. Inoltre.